Un ratto di bracca che si crede un Jedi? Avevo detto al grande inquisitore che non saresti stato tanto stupido da farti rivedere qui, specie dopo l'esito della vostra fiacca resistenza. Lieta di essermi sbagliata. Lieta di essermi. 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 E quello cos'è? La nonna sorella ci dovrei chiamare. Ripensandoci, lei ascolta le loro trasmissioni. Che lo scopra da sola. Lieta di essermi. Lieta di essermi. Lieta di essermi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.